Buon pomeriggio a tutti, ora della merenda, pane con salame ungherese appena affettato e con gorzola. Qua sto scaffando pure due pizzette. Ho messo due pettri di salame, quattro, cinque e sei pettri di salame e una bocca. E poi, il buon gorzola. Aveteci. Vedete che buono? Qua. E qua. Un appetito. Con mollita ausenza, vuestra la merenda.